Quanti filosofi cosiddetti di sinistra, pessimisti, no? Sono lì pensierosi e la tecnica non c'è niente da fare, vero? Tutti collaborazionisti! È proprio quello che questi vogliono! E infatti pubblicano nelle loro collane, scrivono nei loro giornali, è chiaro? No, ragazzi, per carità, nessun vittimismo! Ma allora, siamo fottuti? Viene, la domanda viene, mi viene pure a me. Siamo veramente fottuti? E la domanda, ragazzi, stasera vorrei che la sentissimo con grande serietà, specialmente dopo tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi due o tre anni, anche in Italia. E quindi noi dobbiamo prenderla sul serio, questa domanda, perché potrebbe essere proprio vero che perlomeno per un lungo tempo siamo veramente fottuti. Non del tutto però, cari ragazzi, se no io non sarei qui. E poi voi lo sapete, io sono convinto che l'uomo, l'essere umano, sia, come dire, animato da uno spirito che comunque, sempre, non potrà essere schiavizzato definitivamente. Siamo illuminati da uno spirito che nessun neuromarketing mai potrà del tutto condizionare e controllare. Quello spirito di cui parla San Paolo quando dice Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio. Cioè uno spirito che è infinitamente più potente di questo mondo e di tutti i suoi deficienti funzionari. Uno spirito che è creatore della vita e che non potrà mai essere distrutto da queste macchine artificiali e da elementi deficienti che ci vogliono asservire loro. Quindi, cari ragazzi, nonostante la grande difficoltà, io credo che noi possiamo contrastare questo progetto lavorando sui due fuochi che abbiamo visto essere al centro della disumanizzazione. Quindi abbiamo visto svuotamento del sé come principio di libertà dietro l'apparente libertà totale, svuotamento della democrazia, quindi della comunità politica, dietro l'apparenza di una democrazia libera. Quindi noi dobbiamo lavorare su questi due fuochi. dobbiamo rianimare un sé molto più forte, molto più libero, capace di smascherare questi trucchi e aggregare un popolo, una forza politica, che su questa consapevolezza sia capace di rilanciare la rivoluzione democratica che è tutta ancora da vivere e che anche la Costituzione italiana ha mantenuto in questa sfera di progressività. Nel senso che l'articolo 3, per esempio, ci parla di un progetto tutto da realizzare, eliminare tutti gli ostacoli economici per il pieno sviluppo della persona umana è chiaramente un progetto tutto avanti a noi. E allora qui, cari ragazzi, anche qui una scaletta, una breve scaletta per la risposta creativa alla sfida estrema che ho tentato di descrivervi. Innanzitutto vi prego nessun vittimismo. Guardate che il vittimismo oggi è un morbo, anche giustificato dato quello che abbiamo detto. Il vittimismo è una malattia anche della cosiddetta cultura di sinistra. Lo scrive molto bene il filosofo Maurizio Ferraris, molto bene, vi cito poche righe, perché sono istruttive. scrive la dialettica signoria servitù in quanto figura costitutiva dei movimenti rivoluzionari del ventesimo e del diciannovesimo secolo, i servi si rivoltano contro i padroni e in generale degli ideali progressisti della modernità si basava questa dialettica sul presupposto che lo schiavo avrebbe avuto la meglio. Cioè questa era la speranza più o meno fondata, però questa era la speranza che muoveva i movimenti rivoluzionari nell'Ottocento e nel Novecento. Oggi succede esattamente il contrario. Si postula che le forme della signoria, quelle che abbiamo descritto, tecnologia, finanza, di solito un capitale intelligentissimo che si serve di una tecnologia potentissima vincano sempre più o meno come il banco dei casinò e che l'ultimo compito della riflessione di sinistra consista nel versare qualche lacrima sugli sconfitti e quanti filosofi cosiddetti di sinistra pessimisti sono lì pensierosi e la tecnica non c'è niente da fare, vero? tutti collaborazionisti è proprio quello che questi vogliono e infatti pubblicano nelle loro collane e scrivono nei loro giornali è chiaro se gli umani si convincono che non c'è un cavolo da fare se i pochi pensanti quelli che ancora dovrebbero fare funzionare lo spirito e invece fanno funzionare al massimo qualche pezzo del cervello se anche quelli dicono che non c'è niente da fare che la tecnica è superiore fanno i tristi fanno i tristi fanno i tristi i tristi sono tragici il pensiero tragico vanno a recuperare la tragedia greca tutte queste balle qua beh siamo fottuti proprio no ragazzi per carità nessun vittimismo nessun vittimismo e qui ci vogliono appunto fonti energetiche soprannaturali la butto là perché se non ce l'hai voglio proprio vedere dove tiri la forza dove tiri fuori la forza anche solo per dire quello che sto dicendo stasera quindi nessun vittimismo a Grazie a tutti.